Ciao a tutti ragazzi, eccoci tornati con un nuovo video di Left 4 Dead 2 con la mappa Deathcraft con me stesso, sì. Bene, perché non lo sapesse la mappa Deathcraft, sarebbe appunto una mod di Minecraft sul Left 4 Dead, quindi facciamo inizio partita. Oh cavolo, adesso ci sta 30 anni. Ed è anche figo perché i personaggi non sono gli stessi ma sono i pupazzetti di Minecraft. E' vero. Notate come, avete visto la scritta Deathcraft, sotto la EA ci sta una costruzione giapponese, no? Non vi sembra simile a quella che ha fatto Luke? E' la stessa. Infatti. E' la stessa, ma lì non è copiata. Comunque se, vogliamo fare questo gameplay, e un'altra cosa, se ci starà, tipo, siccome durerà tantissimo, le parti si taglieranno, cioè le taglierò, io lo faccio tutto continuo, però le parti le taglierò, quindi a volte non diremo, tipo, per questa parte è tutto, alla prossima no, ci sarà un taglionetto e basta, perché mi rompo i coglioni a montare, cose pare. Questa non c'era per niente bisogno di dirlo, Angel. E poi cosa monti che ti sollevete mettere l'intro? E' il logo di Angel. Ma il logo di Angel non lo metto più, ma lo te coglioni. Normale. Comunque per me è meglio se metti pausa ora, perché bisogna aspettare che si carica. Quando ci vuole. Metti pausa e fa prima, vai. Non lo so, metti pausa. E' siamo qua. No. Sì, e siamo qua. Ok, vai. Tastaremo muto. Io sono. Lei è un video iniziale del genere. No, no, io sto curando il video iniziale perché stiamo registrando e quindi devo guardare per forza. Vedi le mani degli zombie che entrano dentro la porta? Sì. Angel, tu sei diversamente colorato. Terrifico. Parece che stiamo andando. Questa mappa qua la vorrei portare in giro, ma io lo so mai. Perfetto, non mi lagga per niente. Nemmeno a te. Allora, vediamo. Qua c'è la spada. Ah, questo è bello. Vedi, mi te la dice, ma? La mette e dice perché non voglio spostare la pompa per ora. Tanto la prenderò poi. Angel, addio. E di qua che si. Angel, sono docini. Sono molto docini. Sono molto docini. Allora, di qua. Ci sembra. Eh, ma mi sembra. Guardate, come i nostri zombie sono gli zombie belli di Minecraft con le magliette molto toscite. Non sembrano un po' rimambiti gli zombie? Sono anche molto fieri. Spara, spara. Ma questo non muore. Allora, guarda, mi avvicino a questo. Oddio, ci sta quello con la matura di diamante. Guarda, davanti è serio. Eh, ha lasciato, ha droppato una cosa. Una spada di diamante. Allora, questo qua. Questo qua mi sento il mio amico a fedo. E questo qua invece è il mio amico per il film. Dai, vai, scendiamo. No, aspetta, vai. No, no, no. No, no, no. Ehi, ma qui. Angel è asciuto. Spero il paurale che... Davvero che è morto. Guardate, è di più stupido. Ma tu non sei molto coccido quando muozi. Che è tutto molto coccido in questo video. Non è triste, non è quell'altro. E' vero, sarai molto coccido. A- no ma perchè quelli di fila di fila ma sfanculo come se lo stiamo i pro che lanciano a caso non si ammazzano le persone oh 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 galan e zay sta morendo no stavolta dobbiamo essere seri ma a me ne facciamo sempre due ore più figo uno zombie ti ho rubato la kill ma ci dovrebbe esserci m allora è in una tavola di temanke sta molto fa molto figo oh mi sono bloccato andiamo aspettare se vuoi riuscire poi di lavoro cavolo passiamo di qua quanto è finito il massimo nono nono però se non mi doveva rientrare il tutto il tutto molto grande entro vero poi mi sembra il sito sta baggando il mondo spiega rocci chi fa fa riladini vabbè poi l'attività la kill è mia cosa che vuoi no che fa un video che vuole in questo caso che stai molto allora entriamo in questa casa che mi sa che devo fare qualcosa in questa casa sempre forse entriamo che le scritte error non si vede da notare che fu con un pugno ciao fratelli mi dispiace per la tua morte vediamo il questo non più diritti chi ha fatto così ciao ciao ho ancora 100.000 tietni vittorio mi riferisco pure le le munizioni adesso a salato cosa accade? cosa forse accadendo? si fa buccare? si fa venire oltre? certo che però se il minecraft prendessi tipo una tega come questa è diventata veramente il massimo ma mazzi! con le armi e con gli zombie si prende! ho due pistole adesso dai forse andiamo di qua guardate quando andiamo più lenti in questa parte io sto guardando questo no mi hanno preso ti ho salvato il culo io sto con le pistole sono molto fiero vedi? io sono fiero fermo! wow wow! non sbagliare a me! io io oddio uno slime! uno slime! tipo eh! grazie e poi era un angel non è buono cos'è sta cosa? ah ok perchè l'ho presa? di qua angelo perchè ho cercato di curarmi da che parte? dove sei? ah si ma perchè sono a me? a cavolo non ti posso venire ad aiutare per adesso grazie ah io sto morendo eh ah io mi pongo guarda guarda tu scomidiamo è ferro guardate come è tosse oh ma via ferro hey man, that's not cool non è cool bene adesso dove che dovevamo andare? madonna stranea e me non mi fa vedere niente però dentro il villaggio nei pc ah qua aspetta qua c'era qua gli sta un paesano si 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 voglio verlo voglio farlo vedere voglio farlo vedere possiamo andare ah là c'è il simbolo della casa quindi di tu che dobbiamo andare là a che punto siamo che ne so perché la chiudi tu perché c'era i tu davanti ma poi mi tolto guardiamolo stavo non vedo non vedo qua sto usando oh dio tutti i cazzo io siete ricordati che sono io oh dio sto fermando non so non so la mia proezza la scena la scena oh ma c vediamo cosa c'è dentro questa cesta roba inutile ok ma potente che sai non c'è niente ma lasciamo per ma che stai dicendo qua dobbiamo no 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 di qua di qua pallo non l'avevi visto alberi si ah qua abbiamo finito la prima cosa che posso credo che quindi quindi chiediamo quella parte possiamo chiuderla senza col taglio e alla prossima ragazzi devo andare anche a mangiare guarda quindi ciao a tutti commentate e votate e iscrivetevi